Chi può dire che non vi sia arte nel cielo? Questi dipinti li ho fatti io, alcuni riportando fedelmente tutto ciò che osservavo dal mio telescopio. E non era un lavoro semplice, perché io dovevo osservare il cielo, memorizzare, poi alzarmi, andare a un tavolino, accendere una candela, disegnare, spegnere la candela, tornare al telescopio e ripetere il processo. Come sono arrivati qui? Il conte Marzili, ve lo ricordate? Ve ne ha parlato poco fa Manfredi. Ecco, si dà il caso che il conte avesse dei rapporti di natura astronomica con mio padre ed egli, insieme a molti dei miei disegni sulla Luna, li inviò a questi miei dipinti. E per fortuna lo fece, perché a distanza di 300 anni non solo rendono omaggio alla mia modesta persona, ma a tutti gli scienziati che hanno dedicato la vita allo studio del cosmo.